Dopo due brucianti sconfitte consecutive, la mission sul campo dell'Aquiterma era quella del riscatto. La Nottolini Toscana Garden e MG doveva e poteva ottenere l'intera posta in pali e così è stato, sotto la regia impeccabile del capitano Ambra Trevisiol, che ha smistato palloni al bacio per gli attacchi e con la solita Alessia Sgerza, che con i suoi 20 punti si è giudicata al titolo di MPV di serata. Ma tutta la squadra di Coach Capponi si è dimostrata in grande spolvero, con i centri che oltre ad arrivare in doppia cifra, Salamida Bruni e con la Super Battellino al top e con una grande Coselli in opposto. Una partita dominata in lungo e in largo che non ha lasciato scampo alle pur volenterose padrone di casa dell'arredo frigo Valnegri. Siamo in provincia di Alessandria. Primo e terzo set con le avversarie lasciate a 20 e solo nel secondo parziale la Nottolini ha relativamente faticato di più, chiudendo comunque sul 25-23. Una vittoria convincente corredata da tre punti preziosi. Adesso in classifica la formazione del direttore sportivo Ronzo Miccoli rimane al sesto posto con 27 punti, a sette lunghezze dal terzo che vale playoff e diviso ex equo da Biela e Castelfranco. Sabato prossimo ore 21 sfida al Palapiaggia contro la 1 Maglia Valdarno. È il momento dei derby toscani perché a seguire ci saranno Castelfranco, il derby più sentito ancora in casa, e a chiudere il trittico la trasferta sul campo della Liberi e Forti Firenze. In palio ci sono nove punti che, qualora conquistati, potrebbero rilanciare le ambizioni delle capannoresi, ma forse è davvero l'ultima chance per sognare.